Quando fanno i rally voi vorrete fare i baguettes. Si si si! Si sai, in realtà. Si muove la bassa. Per raggiungere la sette più o meno. Se non ci arrivi. Quindi da qua, se ti mandare la, è questo. Poi ti puoi anche buttare. Non è che fa scendere la sette. La palla addosso. E questa deve lanciare a potere sempre. Se ci si senti. Non c'è quando era. Non c'è quando si alza di dietro. E le ha fatica della Madonna. Mi fermo, eh? Mi fermo. Mi fermo. Oh! Perso la cazzo di Fiorete. Va bene? Se non ci arriva, è una cinzola. E ti scuso di arrivare. Che c'è? Oh, sta! C'è l'amore! C'è l'amore! C'è l'amore! Lei deve correre! Il giocatore difende, non fa un cazzo dentro la partita se una volta fa una boccia di sudore, non gli fa male! Dove deve fare male per te! Tra l'amore! Ma lei deve finire il pulizionato dal campo! No! Guarda! 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 Salta! Apri il veloce! No! Guarda! 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 Grazie. Francesca salta! Non serve a niente, Valera, quella qui da attacchi. Avete fatto un attacco in tre minuti. Non ti cagliare mai e l'eserci. Non puoi andare, Valera, ti credo che sei aperto. Tiro! Non mi conto sembra molto più concentrato che sia aperto, di quella che è per i Risieux. Non credo che sei aperto. Giorgia devi saltare a volarla Giorgia devi saltare le gambe basse Giorgia devi saltare a volarla Giorgia devi saltare le gambe basse 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 più rapida nello staccante, Giorgia Eleonora, fai il gesto attacco, non devi battere flottante Giorgia, fai la balagia, fai la balagia, fai la balagia, fai la balagia Fai la balagia, fai la balagia Fai la balagia, fai la balagia Giorgia, fai la balagia, fai la balagia, fai la balagia Fai la balagia, fai la balagia Fai la balagia, fai la balagia Fai la balagia, fai la balagia, fai la balagia, fai la balagia Fai la balagia, 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 fai la balagia e se non ci si dà, che non va bene. Andiamo! Francesca, palleggia! Vedi più saltato, più per i punti di palleggiare, salzando i pali. Non devi sbracciare, lo ripeto dagli italiani. Mi sono ad alzare bene con facilità della fila dell'evento scorso. Grazie! 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 Grazie. 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 Giro! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.